Segue il battesimo del Cristo, in cui Gesù, immerso nelle acque del Giordano, ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni il Battista. Al centro della scena è il Figlio, al di sopra del suo capo la colomba ad ali spiegate, simbolo dello Spirito Santo, e su in cielo, che si sporge dalle nuvole, il Padre, che tiene in mano un libro, simbolo della sua parola scritta nella Bibbia. Il Battista, riconoscibile dalla veste di peli di cammello, è ricoperto da un mantello rosa, colore simbolo di virile spiritualità, in quanto sintesi del rosso maschile, determinato, volitivo, e il bianco, colore della spiritualità. Accanto al Cristo due angeli gli sorreggono le vesti, una purpurea, simbolo di regalità, l'altra azzurra, simbolo di divinità.